SIA COME VUOI EXPEGLIA Non intervenite! Io lo devo finire! Lui è mio! Harry, quando il contatto si interrompe, devi arrivare alla passaporta! Possiamo indugiare un momento per darti un po' di tempo, ma solo un momento, hai capito? Harry, riporta indietro il mio corpo. Riporta il mio corpo a mio padre. Lascia andare. Tesoro, sei pronto? Lascia andare. Lascia andare! Pazzo! No! No! Ha ha!